Buongiorno a tutti. Oggi ci troviamo alla chiesa di San Nicolò Sessi da Nelazzano. A me è concierto le quattro campane che adesso ascoltiamo. Sarà per mezz'orno. Le fantapose delle sal campanone. La mia esatta in zona sorella, il solito fu un altro perché lo possono più e quindi a presto guardo campanare e ho ascoltato tutti. Ciao! Buongiorno a tutti. 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 Buongiorno a tutti.